Tirate! Non sono fischiate le mani? Stanno tagliando le mani! Non sono fischiate le mani! Non sono fischiate le mani! Non si poteva fare un libro di te facile! Eeeh, è proprio facile! Perché siete facendo tanta fatica? Perché ci sono tante cose! E quindi c'è tanta? E quindi c'è tanta? Sì! No, così! No, così! No, così! Non ci sono fischiate le mani! Vai! Ah! 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 Grazie a tutti!